Codarini Lo aiuta il nastro Ancora la possibilità in primo tempo Di Lorenzo Codarini Soluzione che è andata a segno Diverse volte Murato Sala Ancora di Codarini Questa volta si oppone Prodonati Seconda possibilità Per Codarini Ancora un primo tempo In centro Free ball Di Codarini Tentativo di Sala Muro di Codarini Murato ancora Benavidez E ancora Codarini Sta davvero facendo la differenza Mariani Sala Murato Ancora lui Ed è il quarto muro consecutivo Ancora Codarini Primo tempo Vincente del sedicesimo punto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti